A meno che voi non siate uno di quei mutanti virtuosi della forza bruta, troverete che il tennis agonistico, così come il biliardo professionistico, richiede una mente geometrica, l'abilità non solo di calcolare le vostre angolazioni, ma anche le angolazioni di risposta alle vostre angolazioni. Questo è quello che scriveva David Foster Wallace da un famoso saggio sul tennis, un piccolo articolo di una decina di pagine in cui gli raccontava la sua pur breve carriera da tennista. E nonostante sul numero 3565 di Topolino si parla del Padel con una storia di Giulio Gualtieri per i disegni di Marco Mazzarello, mi sembra abbastanza sensato introdurre questo video con una citazione sul tennis, anche perché, vedendo la descrizione di come è questo sport, si potrebbe definire il Padel come una specie di tennis dentro una scatola. Pertanto, a parte le differenze, come per esempio il fatto che comunque il Padel è uno sport di coppia, possiamo dire che fondamentalmente, dal punto di vista geometrico, i due sport si assomigliano. E in particolare dal punto di vista della scienza, la disciplina che meglio descrive ciò che succede nel tennis e quindi anche nel Padel, anzi a maggior ragione nel Padel, è la geometria e in particolare la fisica dei rimbalzi, volendo scendere nella geometria applicata. Infatti, supponendo di avere un rimbalzo perfettamente elastico della pallina sulle superfici, allora possiamo effettivamente dire che l'angolo con cui la pallina colpisce il terreno è uguale all'angolo con cui la pallina viene poi rimandata verso l'avversario. Le principali difficoltà possono essere quando viene colpita la pallina con la racchetta, anche in quel caso vale sempre la stessa idea geometrica della riflessione lungo la superficie della racchetta. Dietro tutto ciò ci sta ovviamente la trigonometria intesa come la branca della matematica interessata allo studio degli angoli. Ovviamente quando si parla di trigonometria siamo spesso portati a pensare alle cosiddette funzioni trigonometriche, cioè seno, coseno, tangente, che sì, in qualche modo c'entrano dentro la discussione, soprattutto se andiamo a ragionare magari in termini di forze. Però alla fine possiamo in un primo livello puramente geometrico dimenticarcene, almeno per un attimo. Ovviamente il tennista deve tenere conto con appunto la sua mente geometrica di dove va a colpire la pallina, con quale inclinazione, un'inclinazione tale peraltro da non venire rispinta dalla rete nel proprio campo e soprattutto in maniera tale che l'angolazione con cui poi andrà a cadere, in particolare a ricadere di nuovo nel campo avversario, sia tale per cui l'avversario possa avere delle difficoltà nel rimandare indietro la pallina. Ovviamente avendo parlato di funzioni trigonometriche mi sembra giusto un attimo ripassare, diciamo così, cosa sono queste funzioni trigonometriche. Per capirlo basta prendere per esempio una circonferenza di raggio unitario con centro nell'origine degli assi cartesiani. Se prendiamo qualunque punto sulla circonferenza e tracciamo le sue proiezioni lungo l'asse x e lungo l'asse y, la proiezione lungo l'asse x è definita come il coseno, mentre la proiezione lungo l'asse y è definita come il seno. Quindi quando per esempio siamo nel punto 1,0 allora possiamo dire che il coseno di quell'angolo, che l'angolo 0 vale 1, mentre il seno vale 0, viceversa il punto 0,1 cioè 90 gradi avrà come coseno 0 e come seno 1. Allo stesso modo la tangente che è definita come il rapporto tra il seno e il coseno sarà legata in qualche modo all'inclinazione della retta tangente nel punto in cui andiamo a identificare diciamo così l'angolo corrispondente. Quindi più o meno dal punto di vista geometrico abbiamo un'idea abbastanza semplice di seno e coseno. Questa descrizione ci permette anche di capire come seno e coseno siano due funzioni il cui valore varia man mano che ci spostiamo tra i due estremi della circonferenza, quindi man mano che ruotiamo intorno all'origine degli assi. e in particolare le due funzioni variano tra i due estremi di meno 1 e più 1. Detto ciò sperando che questo breve video sia stato interessante non mi resta che innanzitutto ricordare che questo video è anche dedicato al grandissimo David Foster Wallace scrittore che non si è solo interessato di romanzi ma anche di matematica e ovviamente mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati. Salute a tutti!